e vogliamo costruire il futuro, però mi permetto di cominciare salutando anche chi ci sta guardando da casa, ricordando una persona che oggi non è qua, una vittima di questo Stato, ladro e preferisce i delinquenti e contattando cinque anni di carriera per fuoco. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. E' un pensiero anche all'agente di polizia e ai quattro carabinieri feriti oggi da quei delinquenti e ai centri sociali che in corso è vero, uno e uno, in corso è vero, a questo è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.